Il derby della Murgia prima delle festività natalizie non tradisce le attese. Tanto agonismo, quattro reti e un finale incandescente per una sfida dalle mille emozioni. Finisce 2-2 al vicino tra Gravina e Altamura, un pareggio che non accontenta nessuno ma che permette ad entrambe le compagini di poter muovere la classifica. Monticciolo affida le chiavi del centrocampo a Biasson con Croce e Guadaluppi sulla linea d'attacco. De Leonardis schiera un Gravina a trazione anteriore con Gionai al servizio del pericoloso trio composto da Dabbo, Ficara e Chiaradia. Ritmi subito altissimi e padroni di casa che trovano il vantaggio dopo appena sei minuti. Dabbo penetra dalla sinistra e palla per Gionai che si presenta tu per tu con Donini ma serve al centro Ficara che a porta sguarnita firma l'1-0. Risposta immediata dell'Altamura che all'undicesimo pareggia i conti, filtrante di Guadaluppi per Cassiello e palla al centro per Croce che a due passi dalla porta non può sbagliare realizzando la rete dell'1-1. Dopo un inizio scoppiettante l'Altamura prende in mano le redini del match ma le sortite offensive risultano sterili. Al ventesimo calcio d'angolo battuto da Lorenzo e colpo di testa di Croce che termina alto. Al ventottesimo lancio di Biasson ancora per Croce che calcia al volo ma non c'entra lo specchio della porta. Al trentatresimo sempre da corner parabola perfetta di Biasson e Russo per pochi centimetri non arriva l'appuntamento con il gol. L'ultimo sussulto della prima frazione di marca Gravinese al trentottesimo minuto sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina a destro da fuori di Ficara con la palla che termina alta sopra la traversa. Si va a riposo sul punteggio di 1-1. Nella ripresa la squadra di De Leonardis entra con la giusta cattiveria agonistica mettendo in grande difficoltà l'Altamura. Al quarantottesimo insidiosa punizione di Gionai. Croce ben appostato sul primo palo respinge. Passano tre minuti e il Gravina firma il nuovo vantaggio. Gionai riceve palla in aria sia a centra e con un preciso raso terra trova l'angolino giusto dove Donini non può arrivare. 2-1 per i gialloblu che al cinquantaseiesimo sono nuovamente pericolosi con uno scatenato Gionai. L'ex Castellaneta recupera una palla persa malamente dalla difesa altamurana e serve all'indietro De Feo che però sbilanciato calcia alto. Al sessantaquattresimo l'episodio che cambia il match. De Feo già monito si becca il secondo giallo lasciando i padroni di casa in dieci uomini. Girandola di cambi, De Leonardis per difendersi inserisce vicedomini e Madì. Monticciolo risponde con Bozzi e Baradai con l'alta mura che si riversa in avanti. Al settantatreesimo assist di Lorenzo per Guadalupi e conclusione a botta sicura Martellone risponde presente. Al settantanovesimo cross dell'onipresente Lorenzo e colpo di testa di Bozzi. La palla termina di un soffio a lato. Gli ospiti producono il massimo sforzo e all'ottantaseiesimo trovano il pari. Angolo calciato da Cassiello e sfera sui piedi di Lanzolla che da posizione centrale trafigge Martellone per il 2-2. Dopo ben sette minuti di recupero concitati arriva il triplice fischio che sancisce la fine delle ostilità ma al momento del rientro negli spogliatoi scoppia un parapiglia tra i protagonisti in campo che rischia di compromettere le prossime sfide delle due compagini murgiane dopo le festività. Il Gravina si recherà ad Andria per il match contro la Fidelis mentre l'Altamura ospiterà la Versa.